Buonasera a tutti, oggi registriamo 10.000 vittime, abbiamo superato, c'è un altro dato che nello stesso tempo c'incorenta, oggi segnaliamo 1.434 guariti e l'unità di chi vuole una ordinanza della popolazione civile, noi aggiungiamo a questo punto 400 milioni, questi 4 secondi... ... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.